Gabriele, dieci anni fa diventavi il sportivo junior dell'anno, qual è il ricordo di quel momento? È un ricordo bellissimo per tanti motivi, intanto era un momento in cui mi sentivo la città particolarmente vicino dopo una stagione particolarmente lunga, difficile, ricca di soddisfazione ma molto difficile. Poi fu anche molto bello che a premiarmi fu Stefano Carozzo e adesso il premio di storia dello sport è uno che ritengo con più cura nella mia bacheca dei trofei. Sei stato presente in diversi incontri nelle scuole, messaggi importanti da trasmettere? Sono stato fortunato a poter andare in due o tre scuole diverse, è un'attività che io tengo a fare molto perché poter trasmettere i valori dello sport, di cui poi i più importanti sono il sapere far fatica, il sapere sacrificarsi, il sapere far fronte alle difficoltà, sono i messaggi che io tengo di più a comunicare ai giovani di adesso.